Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rossoneri, ragazzuoli, ragazzuole belle, buona serata a tutti quanti di questo mercoledì 20 dicembre 2023, ore 18.29, ore 6.29 di sera, presto che tardi perché devo fare altre cose, lo sapete stiamo arrivando verso il Natale, i preparativi fervono, tante cose da fare, allora ragazzuoli, ragazzuole belle, parliamoci molto chiaramente, il protagonista di questo video è Zlatan Ibrahimovic, registro il video prima perché appunto, come ho detto adesso, devo fare anche altre cose dopo, è lui il protagonista perché oggi si inaugura il primo giorno di lavoro come dirigente di Zlatan Ibrahimovic, grande grande Zlatan, ha risolto tutti i suoi problemi con l'influenza, ieri sera non è andato la cena di Natale con la squadra Pioli e tutto lo staff e ha iniziato proprio oggi dal primo minuto questa mattina in Milanello. Si attendono, io vi dico da quello che so, si attendono delle novità interessanti, lo sapete tutti, il ruolo di Ibrahimovic è a 360 gradi, è praticamente il verbo della proprietà in Milanello e questa è una cosa abbastanza pesante per un certo Stefano Pioli e il suo staff, che sia chiaro. Si viene a sapere anche oggi che tra l'altro Ibrahimovic sarà sempre presente gli allenamenti della squadra in Milanello e anche sarà presente in tutte le partite della squadra in casa e fuori casa. Adesso bisogna capire un attimino quando verrà risolta l'inghippo praticamente dell'organigramma per poter stare anche negli spogliatoi perché questa sarà una fase molto importante ma penso che sarà risolta presto. Per cui grande Zlatan, il video è dedicato a lui. Poi come sapete ci sono le ultime news che ruotano intorno al Milan? Allora parliamoci chiaro, si allunga ancora, anzi tiene ancora a banco la lista degli infortunati che due scatole con questa rottura degli infortuni in Milan siamo veramente una barzelletta in questo senso, perché Musa non ci sarà contro la Salernitana, sì che cavolo stavo dicendo, ero già disperato che stavo dicendo già un'altra parola. Musa non ci sarà contro la Salernitana, ecco lo ripeto e praticamente continuiamo così con la solita menata di tutta stasolita solfa e strasolfa di questo disastro del preparatore 13 del Milan dei medici, pure loro che ci includono. Ecco, ragazzi lo dico già adesso, noi ci vediamo per il video post partita venerdì sera entro la mezzanotte perché vi voglio ricordare che appunto, come vi ho detto adesso per Musa, noi giochiamo contro la Salernitana questo venerdì alle ore 20.45 e ci sarà il video reaction come al solito. Bene, detto ciò proseguiamo diretti, sparati per queste ultime notizie che non sono molte oggi ma sono abbastanza importanti. Allora, sul discorso difensore c'è una novità abbastanza importante, praticamente Kivior, l'ex Spezia, ve lo ricordate il difensore dello Spezia Kivior, bravo difensore, non lascerà l'Arsenal perché oggi i dirigenti dell'Arsenal hanno deciso che a gennaio Kivior non si muove per cui rimane all'Arsenal, altrimenti l'Arsenal sta facendo anche un buon campionato e cerca di avere tutte le sue cartucce pronte per dare la zampata definitiva e chiama gli stupidi nel senso. E allora abbiamo dirottato, siamo su un certo Lenglet, a me Lenglet piace, lo conoscevo già ai tempi del Barcellona, non sono mai diventato pazzo per questo giocatore però Lenglet fidatevi che è un ottimo giocatore, vi voglio ricordare che il francese Lenglet è un classe 1995 per cui ha 28 anni, in questo momento è in prestito in Premier League alla Stonevilla, il problema è uno che nella Stonevilla praticamente non gioca, l'allenatore della Stonevilla gli gira così, vi voglio ricordare che la Stonevilla mira al colpo grosso, cioè quello di vincere la Premier League perché la Stonevilla sta facendo un gran campionato, però loro sognano, hanno il diritto di sognare, la Stonevilla punta a quello. Per cui insomma uno dice ma come mai questi lasciano partire Lenglet? Perché hanno degli obiettivi di calciomercato proprio in quel settore lì. Molto probabilmente Lenglet come piede sinistro, vi voglio ricordare che Lenglet è un piede sinistro, alla Stonevilla non piace e invece sarebbe ottimo per noi se lui dovesse andare a prendere la casella, praticamente che serve per giocare in coppia con Tomori. Allora io mi chiedo Esimic, punto di domanda, Esimic punto di domanda, per me Simic dovrebbe a questo punto dividersi tra la primavera e il Milan, la prima squadra, però sappiamo tutti che non è possibile fare una cosa del genere, per cui Lenglet risulterebbe sempre utile che sia chiaro, per questi ragionamenti bisogna farle, bisogna cercare di ricordarsi di queste cose. Poi c'è un'altra notizia che forse qualcuno di voi fa storcere il naso, io ho un po' storto il naso però ho capito un pochettino da andiamo a parlare. Allora Popovic, questo centrocampista classe 2006, un talento pazzesco del bipartisan, però oggi il Milan ha fatto sapere che non diamo la zampata definitiva per prendere Popovic, questo talentino classe 2006, centrocampista del partisan, perché? Perché si sta studiando cosa fare per il calcio mercato di gennaio, nel senso, se noi prendiamo Guy Sarri, praticamente andiamo a togliere uno slot di estracomunitario e se non ho capito male ce ne rimane solo uno, per cui se prendi Popovic succede che Popovic occupa lo slot di estracomunitario e non ci possiamo più muovere per gli estracomunitari, è chiaro quel concetto? Beh insomma a me se non prendiamo questo talentino qua dispiacerebbe perché abbiamo bruciato una concorrenza guerrita, però da quello che si è capito il Milan rimane su Popovic, non è che gli ha detto a Popovic tu non verrai più al Milan, rimane su Popovic, ma speriamo in bene ragazzi perché comunque insomma questo qui è un talentino non farsi sfuggire. E su Guy Sarri praticamente noi sembra che siamo diretti su questo ragazzone, anche lui è un 28enne come l'Engle, ci vogliono questi profili, io un po' di tempo fa pensavo che ci volevano solo giovani entro massimo 24 anni però questi profili di esperienza, ecco massimo fino ai 28-29 anni servono, ecco non oltre grazie, perché Guy Sarri guardate che se prendiamo Guy Sarri è un affarone clamoroso, sul discorso Accor Adams che vi ho parlato ieri che si è saputo dell'ultima notizia di Accor Adams, che il Montpellier non lo lascia partire, e proprio perché la decisione del Montpellier non di Accor Adams, perché dovete andarvi a leggere l'intervista di Accor Adams che lui sarebbe onorato di avere interessamento su di lui, del Milan che sia chiaro. Bene, adesso poi vi parlo e vi preparo, sì è certo ovvio adesso, delle ultime notizie che riguardano invece la nostra dirigenza, perché oggi ha lasciato praticamente un'intervista, una bellissima intervista a Moncada, il nostro Geoffrey Moncada, capo scouting del nostro Milan. Allora io vi invito a tutti voi di andare a leggere questa intervista, non ve la leggo qui, non vi leggo neanche gli stracci ragazzi, perché per me è inutile farlo in certi casi, perché questa è un'intervista abbastanza introspettiva di Moncada, che lui praticamente è lunghissima questa intervista, voi scrivete online praticamente Moncada progetto 3-4 anni Milan, dovete scrivere così, e vi spiega che Moncada la sua visione ve la faccio io in breve, la sua visione è quella di avere una squadra che ha una base forte, che viene praticamente migliorata, viene praticamente sia appunto coccolata e migliorata e allenata per un periodo che va dai 3 massimo 4 anni, questo cosa vuol dire? L'estate scorsa, la faccio in breve, noi abbiamo fatto questo blocco di nuovi acquisti, che qualcuno di voi, di noi, magari critica quello potremmo non prendere, potremmo prendere quell'altro, ma il vero tassello mancante del scorso calciomercato è stato uno, l'attaccante, 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 e io nel mio piccolo ho criticato Moncada in modo molto civile una volta, una volta nel senso di dire solo in questo, che doveva imporsi per prendere sto benedetto attaccante, però io non conoscevo il suo ragionamento, noi non conoscevamo il suo ragionamento, adesso ve lo spiego in breve, lui dice, io l'estate scorsa ho speso 110 milioni di euro per questo blocco di giocatori, questo blocco di giocatori per me sono giocatori che devono rimanere al Milan minimo 2 anni, se non 3, e se non massimo 4 alcuni di loro, questo vuol dire, e Moncada ce l'ha detto nell'intervista di oggi, scrivete su Google, sul motore di ricerca, Moncada 3-4 anni, progetto Mila, lui dice, e andatevelo a leggere, lui dice, io adesso con questo blocco dell'estate scorsa lo mantengo, l'estate prossima prendo 3 giocatori per migliorare la rosa, ragazzi, presto che detto, che giocatori saranno i giocatori, uno ancora sarà l'attaccante, perché vi spiego, questa è una questione di deduzione logica che io vi sto facendo per farvi capire come vanno le cose e fidatevi che come al solito ci azzecco. Adesso noi andiamo molto probabilmente a gennaio sull'attaccante e si spera bene se si vuole finire il campionato bene, se si vuole finire in un disastro, una mazza. Allora, Guy Sarri, giusto? E per cui abbiamo Jovic, per cui abbiamo anche il buon Giroud e compagnia cantante, comunque loro tre. Ascoltatemi bene, se io ho capito ieri e so da ieri che qui bisogna capire ancora come va a finire il decreto crescita, ma molto probabilmente il governo Meloni non ci vuole sentire il decreto crescita e lo vuole eliminare, fuori dai giochi è Giroud e Jovic, ma Jovic chi lo riscatta? Non verrà riscattato, questo già a priori, ma Giroud non verrà motoriamente riscattato perché non beneficia il decreto crescita e anche se lui ha accettato di prendere qualcosa in meno, cioè 3 milioni di euro netti, devi sempre pagare 6 lordi e non ne va la pena in un certo senso. Per cui tu prendi un attaccante adesso e un altro attaccante l'estate prossima. Ragazzi, questo è il ragionamento, punto a capo. Il Milan, secondo me, l'estate prossima, Moncada, di quello che ho capito io oggi, ha un'idea dell'attacco completamente rivoluzionata. Come vedete adesso, uno lo prende adesso, uno l'estate prossima e fa ritornare alla base Colombo. Colombo se la deve lottare se ritorna alla base, oppure andrà ancora in prestito, punto di domanda? Questo non lo posso dire. Questo è il ragionamento che sto facendo. Comunque Moncada ha raccontato la sua vita personale, di come è arrivato fino al Milan, che l'ha voluto Elliot, della sua carriera, lui è stato anche un giocatore di calcio. Era un buon giocatore, ma non ottimo, per cui ha voluto lavorare come dirigente all'interno di una squadra di calcio. Lui deve molto al Monaco e quant'altro. Insomma, ha spiegato tutta la sua vita. È stata molto bella questa intervista, vi invito a leggerla. Però si è capito proprio questo. Il blocco dell'estate scorsa rimane. Sicuramente adesso a gennaio, ad esempio, se ne va via Krunic. Poi vedremo come sarà il discorso delle uscite. Io parlo del blocco dei nuovi giocatori. Ad esempio, Moncada ha parlato molto bene di Benasser, nel senso che già lui lo seguiva ai tempi del Monaco, però non aveva dato molto fiducia al ragazzo. Non pensava che venisse così fuori, invece ha parlato molto bene di Benasser. Però vi spiego questa è la situazione che ha spiegato Moncada. Insomma, è un ragionamento che ha sicuramente la sua logica. Secondo me è ottimo perché investire nel futuro, cioè un prospetto futuro, cioè tu inizi a vestire, patrimonializzi, cioè i giocatori li compri, non li prendi in prestito quelli che devono rimanere, come abbiamo fatto noi l'estate scorsa, e fai questo investimento di un giocatore che minimo deve farmi vedere qualcosa in due anni, se non tre. Moncada poi ha parlato anche di Leao. A proposito, Leao, grande, che oggi è andato a salutare e a trovare i bambini malati di tumore, l'Istituto Nazionale di Tumori, altro che Ferragni, altro che Ferragni, non li lasciamo perdere. Bravo, grande Leao, è andato a trovare i bambini che non stanno bene. Abbraccio a tutti i bambini, milanisti, non milanisti, che non stanno bene. Io vi abbraccio tutti veramente. Però questa intervista di Moncada, che lui già osservava anche Leao, già lo vedeva, ha detto una cosa che mi ha colpito molto e poi vi saluto. Quando si capisce che un giocatore diventerà grandissimo nella Youth League, cioè nella Champions League delle squadre primavera dei club di calcio. In quel momento, dice Moncada, tu capisci, in quel momento nella Youth League che un giocatore diventerà grande. Tutto a capo. Io vi mando un abbraccio, forza Milan, sempre, comunque, ovunque. È uno spettacolo. Ciao.